Buonasera, sono contenta di essere qui anche questa sera per parlarvi di medicina ayurvedica. Ringrazio dell'invito Life, il mistero della vita, e Enrico Ballantini e Anna Tamburini-Torre per l'ospitalità che mi riservano da alcuni mesi. Questa sera vi ricorderò i principi della medicina ayurvedica e parleremo in maniera particolare di quelli che sono i principi legati all'alimentazione nella ayurveda, a una buona digestione e anche coglierò l'occasione per parlarvi di quelli che sono i meccanismi legati al cambio stagione. Un momento molto importante che per la ayurveda è cruciale proprio perché cambiano in natura, come sappiamo anche nella nostra osservazione così spontanea e naturale, cambiano tutte le leggi che configurano i nuovi ritmi naturali. Intanto penso che tutti sappiate che, o perlomeno magari qualcuno che si è collegato come prima volta questa sera, io sono Graziella Bensi, sono farmacista, mi occupo di medicina ayurvedica da circa 30 anni, ho incominciato a studiarla come conseguenza del mio percorso anche personale verso il raggiungimento di una maggiore consapevolezza che è partito nel lontano 1978, anno in cui ho iniziato a praticare la tecnica di meditazione trascendentale. Dopo una decina d'anni, nell'88 sono diventata anche insegnante di questa tecnica e negli anni 90 appunto ho incominciato a studiare e approfondire la medicina ayurvedica. In quegli anni, finalmente, grazie all'intervento di rivitalizzazione di questa antica scienza operato da Marishi Maesh Yogi, dal quale abbiamo anche ricevuto alla fine degli anni 50 la possibilità di conoscere e praticare la meditazione trascendentale. Apro una piccola parentesi, qualcuno di voi se lo ricorderà come il guru dei Beatles, soprattutto chi ha intorno alla mia età, ma anche in tempi recenti compare spesso la foto o le immagini di Marishi insieme ai Beatles negli anni 60, fino agli anni 60, quando il gruppo di questi ragazzi, di questi cantanti diventati molto famosi in quegli anni, si avvicinarono a questo maestro imparandone la tecnica che sicuramente ha dato un grosso impulso creativo alla loro professione e professionalità. Attraversavano in quegli anni dei momenti un pochino di appannamento dovuti all'estremo successo, anche come sappiamo l'uso di droghe e così via, e avvicinandosi a Marishi e alla tecnica di meditazione trascendentale ricominciarono a produrre dei pezzi musicali estremamente interessanti. Quindi Marishi in quegli anni aveva introdotto in Occidente appunto la tecnica di meditazione trascendentale e negli anni 80 si prese l'incarico di ritrovare in India la terra di origine dell'antica scienza vedica di cui la medicina ayurvedica fa parte la meditazione trascendentale come approccio yoga fa parte l'architettura vedica o sapatia veda o vastu fanno parte l'astrologia vedica, un aspetto molto interessante chiamato in sanscrito jyotish, fa parte Marishi in quegli anni dopo essere stato diciamo colui che ha contribuito anche a portare di nuovo una ventata di spiritualità a tutta l'umanità scendendo dall'Himalaya dove era rimasto nell'ashram, nel rifugio chiamiamolo del suo maestro per 13 anni e ha incominciato a rivitalizzare gli altri aspetti della scienza vedica la scienza vedica possiamo dire è un corpo di conoscenza antichissimo parliamo di migliaia di anni i testi classici di questa antica scienza risalgono ad almeno 5.000 anni fa però è un po' come se questa scienza esistesse da sempre un po' come tutte le scienze in realtà esistono da sempre Einstein ha formulato la teoria della relatività generale intorno agli anni 40-50 ma in realtà lui l'ha formulata ma non è che non esistesse prima della scoperta di Einstein così come il concetto di energie e materia formulato da Max Planck intorno al 1918 era assolutamente quella che è la natura della materia sia corpuscolare che vibrazionale quindi in questo stesso senso possiamo dire che la scienza vedica esiste da sempre è un po' come fosse la scienza vedica la registrazione più antica di quello che ci serve conoscere e capire della natura per uniformarci alle leggi di natura purtroppo come ben vediamo in questi ultimi centinaia di anni il rispetto verso la natura è andato sempre più scemando e tutto quello che vediamo avvicendarsi in questi ultimi anni dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista del comportamento sociale dal punto di vista del comportamento etico e morale sta perdendo sempre di più quel filo profondo e logico di legame appunto con le leggi fondamentali della natura quindi la formulazione di questi antichi saggi chiamati Rishi infatti Maha Rishi Maha in sanscrito vuol dire grande quindi grande Rishi grande conoscitore è stata fondamentale per poter avere una formulazione che si attenesse strettamente a quello che è il vero funzionamento fondamentale della natura cosa hanno di particolare questi Rishi e Marishi di conseguenza il fatto di avere sviluppato attraverso la pratica della meditazione attraverso la pratica del rispetto verso se stessi verso la natura quindi attraverso l'acquisizione di un equilibrio noi diremmo neurofisiologico in termini moderni hanno realizzato un sistema nervoso talmente cristallino talmente purificato da poter partecipare direttamente all'esperienza delle leggi di natura quindi sono dei ricercatori della coscienza possiamo dire e questo termine non deve stupirci non deve di nuovo ingannarci facendoci pensare che questi ricercatori sono quindi dei conoscitori di livelli spirituali poco attinenti ai livelli materiali perché i fisici stessi nel novecento ci hanno spiegato che in realtà materia e spirito o materia e energia sono le due facce della stessa medaglia quindi oggigiorno dobbiamo viste le continue scoperte in questo campo le continue evoluzioni in questo campo dobbiamo sempre più prendere atto che tutto quello che facciamo per scoprire noi stessi e per avere un risvolto di beneficio in questa scoperta di noi stessi ci porta a capire sempre meglio la natura di conseguenza a utilizzarla sempre meglio di conseguenza a rispettarla sempre di più e questo è un po' il principio fondamentale che ritroviamo soprattutto visto che consideriamo questa sera la iurveda ritroviamo nella medicina iurvedica ma questo principio di equilibrio di rispetto della natura di studio approfondito delle leggi di natura all'interno della nostra coscienza è il principio base di tutti gli aspetti della scienza vedica vi faccio un esempio per capirci per intenderci vi dicevo che uno degli aspetti della scienza vedica è l'architettura vedica lo stapattia veda come viene chiamato stapattia come poi vedremo ayurveda è un termine in sanscrito composto da due radici stapanna che vuol dire stabilire, strutturare e quindi in ultima analisi costruire e di nuovo il termine veda come troviamo in ayurveda quindi la scienza la conoscenza dello stabilire del costruire così come ayurveda le due radici ayush ayus la vita la durata della vita la portata della vita e veda di nuovo scienza conoscenza però veda ha anche un altro significato ancora più diciamo descrittivo di quello che vi dicevo prima veda vuol dire anche coscienza ormai questo termine ripeto l'ho già detto e l'ho accennato nelle parole che dicevo prima è stato sdoganato come termine neuroscientifico non è più di appannaggio soltanto dell'aspetto filosofico dell'aspetto spirituale ma ormai abbiamo capito che è di nuovo nella neurofisiologia l'altra medaglia della nostra fisicità quindi la nostra fisicità in pratica è sostenuta da questo aspetto molto sottile che i neuroscienziati ormai non temono più nel chiamare coscienza faccio la battuta ma in realtà se ripensate al 1600 e le vicissitudini attraversate da Galileo e alla fine sul rogo di Giordano Bruno non è come dire una battuta inappropriata il fatto che adesso gli scienziati possano senza timore dire che la coscienza è un aspetto della neurofisiologia ai tempi di Galileo la chiesa imponeva rigidamente questa distinzione tra spirito e materia non rendendosi conto ovviamente allora il livello di consapevolezza il livello di coscienza non permetteva questo salto qualitativo che in realtà la parte materiale e la parte spirituale nella nostra neurofisiologia così come in tutto l'universo sono intimamente collegate sono le parti e di nuovo le due facce della stessa medaglia questo percorso la scienza l'ha fatto in tutti questi anni ed è sempre stato come dire presente nella storia dell'umanità ogni civiltà ogni filosofia ogni religione ha dato grande spazio grande apertura alla descrizione di questa intima realtà di ognuno di noi la scienza vedica la chiama Atma Se la la l'ebraismo lo chiama Einsof Amassimandro lo chiamava Apeiron Pitagora lo chiamava la musica delle sfere tutte queste antiche descrizioni Gesù Cristo lo chiamava il regno dei cieli dentro di noi tutte queste descrizioni semplicemente ci fanno capire che l'essere umano da sempre ha avvertito questa realtà così intima così profonda i grandi artisti io spesso così vedo immagini di quadri meravigliosi di Chagall piuttosto che di Monet Manet e tutti gli altri artisti Tiziano Caravaggio cioè quanti ne conosciamo di così elevata interiorità che hanno saputo trasmettere attraverso i loro colori i loro dipinti le loro immagini qualcosa di estremamente infinito che non troviamo in un quadro che potrei farvi io che non ho quella vena cosiddetta artistica quindi io il mio dharma la mia caratteristica intima profonda è quella di trasmettere questi concetti l'ho scoperta via via nel corso della mia vita ma l'ho sempre sentita fin da piccola come ognuno di noi sente fin da piccolo che ha determinate caratteristiche che gli risuonano spontaneamente nella propria vita poi c'è chi è fortunato e riesce a seguire la propria strada fermare la propria strada nella propria professione c'è chi come me se l'è sudata negli anni perché i primi anni sicuramente gli ostacoli ci sono stati immaginatevi 30 anche più di 30 anni fa come poteva essere inusuale dire vabbè sono farmacista ma veramente vorrei diventare insegnante di meditazione trascendentale e poi via via ecco adesso vorrei approfondire imparare e applicare la medicina ayurvedica quindi immaginatevi il percorso come possa essere stato difficile però difficile non vuol dire assolutamente impossibile quindi chi di noi ha avuto la fortuna come questi grandi artisti che vi ho citato che però come sapete la maggior parte sono diventati famosi dopo la loro morte e quindi hanno fatto comunque una vita di stenti di patimenti di non riconoscimenti proprio perché in ogni epoca il livello di coscienza poteva non essere conforme a quello che loro riuscivano a trasmettere con i loro dipinti la loro musica la loro arte la loro poesia immaginiamoci anche il grande Vatte no Dante come potesse nel suo periodo essere quello che in realtà noi abbiamo scoperto in tempi abbastanza recenti quindi questa è un po' la storia dell'umanità pensate anche dal punto di vista delle scoperte nel campo della fisica quantistica Max Planck le sue scoperte le aveva fatte alla fine dell'ottocento ai privi del novecento e il premio Nobel gli è stato conferito nel 1918 quindi ci sono voluti una ventina di anni prima che la consapevolezza la coscienza collettiva si rendesse conto di quanto grande era il il tipo di conoscenza che lui aveva formulato e di quanto grande fosse questo scienziato e questa è la storia in generale di ognuno di noi e di quello che stiamo vivendo in questo momento molto difficile e particolare per l'umanità che di momenti difficili e particolari ne ha attraversati tanti quello che sta succedendo dipende proprio anche dal livello di coscienza collettivo e visto che l'ho già detto anche nell'intervento scorso ma mi fa piacere ricordarlo di nuovo esulando leggermente poi dall'argomento che poi porteremo avanti più legato questa sera all'ayurveda all'alimentazione alla modalità che l'ayurveda ci consiglia per conservare la salute in ogni transito dell'anno in ogni transito del giorno e così via vi voglio ricordare a proposito di coscienza collettiva che sulla meditazione trascendentale sono stati fatti almeno 50 studi statistici sul fatto che la 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 meditazione trascendentale praticata in gruppo può produrre uno stato di coerenza collettivo uguale alla coerenza che si verifica durante la pratica della meditazione trascendentale nei due emisferi cerebrali e l'aumento di coerenza della corteccia prefrontale questo fenomeno chiamato e definito effetto marisci citato su tutte le riviste del settore dove si parla di conflitti di guerra e così via come un effetto assolutamente attendibile di recupero della quiete del recupero della calma del recupero proprio anche di fenomeni tragici come la criminalità le guerre il terrorismo e giusto per darvi l'idea di quanto noi stiamo procedendo concretamente da sempre su ispirazione a suo tempo di marisci nel creare questi gruppi di coerenza il più possibile vicini alla zona in cui la guerra si è scatenata quindi noi in questo momento abbiamo dei gruppi segreti in Ucraina e in Russia che stanno praticando per quello che possono fare insieme la tecnica della meditazione trascendentale per creare questo effetto di coerenza e abbiamo un gruppo di volontari che sta affluendo da tutta Europa e da tutto il mondo in Romania vicino al confine con l'Ucraina proprio per produrre questo effetto non solo questo ma tutti noi in tutto il mondo siamo più di a questo punto 12 milioni di persone in tutto il mondo che praticiamo la meditazione trascendentale abbiamo delle fasce orarie per ogni fuso orario in cui pratichiamo la tecnica idealmente insieme ognuno a casa propria in quel determinato orario chiudo la parentesi torno appunto al meccanismo che la Ayurveda ci suggerisce vi ricordo per chi magari non aveva partecipato alle altre dirette e per chi sente parlare per la prima volta di Ayurveda che appunto Ayus Eveda scienza conoscenza coscienza cioè strutturazione di tutta questa medicina a livello delle fluttuazioni più sottili della nostra neurofisiologia secondo la Ayurveda tutto si manifesta da questo campo silenzioso profondo chiamato Atma Se così come i fisici ci hanno suggerito in questi ormai più di cent'anni che tutto si manifesta da quello che mano a mano i fisici hanno chiamato il campo unificato di tutte le leggi di natura quando questo campo per sua natura i fisici lo dicono lo descrivono come il principio quantico di perdita di simmetria del campo adesso sono termini difficili ma è solo per farvi capire quanto queste descrizioni siano vicine alle descrizioni della scienza vedica della Iurveda la Iurveda ci dice che questo campo estremamente profondo e sottile è dove c'è la coesistenza del conoscitore del conosciuto e del processo del conoscere come dire io sto parlando a voi quindi sono io che parlo quindi emetto delle parole emetto dei suoni che voi percepite con il vostro organo dell'udito e mi vedete con l'organo della vista e l'oggetto è quello di cui io vi parlo e che vi trasmetto quando siamo in quello stato più raccordo e profondo che nel Vangelo di Giovanni viene descritto come il verbo all'inizio era il verbo e il verbo era presso Dio no e ripeto non sto facendo una lezione di cristianesimo o cattolicesimo ma vi voglio fare semplicemente cogliere le sfumature di similtudine tra la descrizione della scienza vedica e la descrizione del Vangelo secondo Giovanni quando io sono talmente assorbito in me stesso questo trio diventa uno no tre in uno e una una santa della tradizione vedica che si chiama Ananda Maimà descrive questo uno come l'unico obiettivo di tutta la nostra vita e di nuovo detto così non dobbiamo confonderlo come un principio religioso come un principio spirituale come un principio filosofico come un principio romantico ma in realtà lo dobbiamo riconoscere come un principio di salute infatti secondo secondo la tradizione vedica secondo l'ayurveda il primo la prima causa di tutte le malattie viene chiamata pragya parad errore dell'intelletto cioè l'uscire da quella consapevolezza che io sono prima di tutto il mio sé e che grazie a questa memoria questa esperienza io produco attraverso la mia il mio ego quindi la mia struttura neurofisiologica specifica perché sono nata in quel momento da quella famiglia da quelle memorie ancestrali attraverso il mio intelletto che discrimina la mia mente che coordina i miei organi di senso questa armonia tra tutti questi livelli fa sì che io produca un'espressione di vita di lavoro di vita personale conforme alla mia struttura e in armonia con l'ambiente c'è una bellissima frase in sanscrito nella tradizione vedica che dice così yata pinde tata bramande come il microcosmo così è il macrocosmo com'è la mente umana così è la mente cosmica e questo di nuovo non è un bel esercizio filosofico spirituale ma è quello che dicono gli scienziati quello che io faccio a casa mia influenza non solo il paese dove vivo io ma influenza l'universo influenza i pianeti e i pianeti dirimando mi daranno un impulso uguale e contrario a quello che ho mandato io quindi capite che responsabilità enorme ognuno di noi ha soprattutto in un momento storico così delicato come stiamo vivendo adesso madre Teresa di Calcutta diceva non preoccuparti della guerra che c'è di qualsiasi guerra ci possa essere prima di tutto porta la pace nella tua famiglia e tutti noi sappiamo quanto spesso parliamo di pace facciamo manifestazioni eccetera eccetera e poi abbiamo dei buchi neri nell'ambito della nostra famiglia o del nostro posto di lavoro e così via quindi tornando a quel concetto che vi ho detto prima cos'è la scienza vedica cos'è la Ayurveda è il manuale la mappa adesso noi siamo abituati col navigatore no e andiamo dappertutto col navigatore ma alcuni anni fa per spostarci in una città nuova piuttosto che per andare da una parte all'altra dell'Italia o dell'Europa dovevamo munirci di una mappa quindi la scienza vedica la Ayurveda sono una mappa per percorre il percorso della vita su questo pianeta in modo da disturbare il meno possibile la nostra neurofisiologia e l'armonia delle persone che sono intorno a noi e l'armonia dell'universo perché ogni cosa che ognuno di fa di noi fa qui su questo pianeta ripeto si riflette nell'universo e come dice Mariella le malattie trovano origine nella disarmonia discrasia di ogni essere umano soprattutto a livello del mentale ed animico esattamente la Ayurveda come dicevo prima ci dice che la prima causa della malattia è il pragya parad l'errore dell'intelletto quindi l'essere talmente coinvolti dai nostri organi di senso dal nostro voler giustamente realizzare i nostri desideri dal voler portare avanti i nostri progetti che è tutto assolutamente conciliabile con una vita in armonia con le leggi di natura ma l'eccesso di come dire tensione in quella direzione fa sì che dimentichiamo di nutrire le radici del nostro albero vita di innaffiarle no e quindi perdendo quel contatto incominciamo a creare queste disarmonie a livello di che cosa dei cinque elementi fondamentali spazio aria fuoco acqua e terra che a loro volta nella nostra neurofisiologia e anche nell'ambiente che ci circonda diventano i tre dosha i tre principi metabolici fondamentali vata pitta e kafa vata composto da spazio e aria sede principale il colon pitta composto da fuoco e un pochino di acqua sede principale lo stomaco duodenio intestino tenue e kafa sede principale il torace composto da acqua e terra questi tre governano quindi e aiutano a mantenere in equilibrio o al contrario a portare fuori dall'equilibrio queste strutture che vi ho citato e tutto quello che fa parte dell'ambiente che ci circonda può essere di utilità per riequilibrare questi sistemi l'alimentazione è uno degli aspetti che appunto stasera considereremo maggiormente e i campi o stagione quello che appunto vi dicevo vi descriverò un po' dei suoi effetti in maniera particolare il cambio stagione verso la primavera che stiamo affrontando quando noi parliamo di vata pitekafa parliamo quindi di tre sistemi interagenti tra di loro vata quando si squilibri è quello che poi trascina nel suo disequilibrio anche gli altri due quello che nella medicina moderna definiamo disturbo psicosomatico vata sistema nervoso centrale periferico che diventa il motore di disarmonia poi per l'apparato digerente per l'apparato respiratorio per il sistema immunitario e così via fate semplicemente questa riflessione con me se io sono molto stressato il mio addome in genere si gonfia il mio sistema nervoso è iperattivo sono preoccupato questa preoccupazione fa sì che non dorma neanche tanto bene di notte che non riesca a staccare nella mia quotidianità dai miei pensieri dai miei problemi e così via e questo incomincerà ad agire sull'addome sulla schiena perché questa spinta divata spazio aria si spingerà verso la zona lombosacrale si muoverà lateralmente verso il fegato producendo un metabolismo dei grassi non corretto si muoverà verso lo stomaco suscitando gonfiore e eccesso di calore perché l'aria fa incendiare il fuoco aumenta il mantice aumenta il fuoco nel cammino e via via questo calore va anche a interessare l'apparato respiratorio creando infiammazione allergie creando sinusiti creando riscaldamento al nostro cervello queste immagini descrittive che vi ho dato sono legate a tutto quello che l'ayurveda ci insegna tutto quello che io vedo nelle persone che seguo io vedo circa in media una cinquantina di persone alla settimana a cui sento il polso sapete che la metodica ayurvedica più profonda più chiarificatrice della situazione di una persona è quella di ascoltare l'arteria radiale del polso sinistro alle donne e del polso destro agli uomini cosa sentiamo nel polso sentiamo le qualità di questi tre elementi vata pite kafa vata spazio aria quindi sarà leggero instabile freddo ruvido secco e queste qualità le possiamo sentire pitta è fatto di acqua di fuoco un pochino di acqua quindi sentiremo la come dire pungevolezza la il calore la leggera untuosità di pitta sotto il dito il dito medio e kafa sentiremo l'acqua e la terra quindi la morbidezza sotto il dito anulare questo se questi tre sono abbastanza in equilibrio in equilibrio e voi direte ma è abbastanza difficile sentire queste qualità no ovviamente si studia no io sono 30 anni come vi dicevo prima che studio la yurveda e che soprattutto la pratico quindi si studia si pratica noi abbiamo avuto la fortuna nel nostro percorso di apprendimento io come farmacista poi ci sono amici medici veterinari e poi abbiamo tutta una serie di strutture di corsi per il personale paramedico da fisioterapisti infermieri erbolisti naturopati quindi abbiamo strutturate in questi ormai 30 anni dei corsi per le varie professionalità dove abbiamo il supporto e l'apporto grandioso dei medici ayurvedici indiani ovviamente che vengono più direttamente da questa grande cultura grande tradizione e dicevo no il fatto che con i polpastrelli la punta dei polpastrelli in questa zona c'è una sensibilità particolarmente spiccata dovuta alla presenza di quelle cellule che si chiamano cellule di Merkel che hanno questa sensibilità molto più estesa che non nella parte questa qui più morbida del polpastrello quindi si sente proprio con la punta dei polpastrelli e più si pratica e più si è a quel livello di consapevolezza di coscienza acquietato più le informazioni arrivano nella tradizione vedica nella scienza vedica si dice che le malattie vogliono moksha vogliono la liberazione dal vaidia il vaidia è il medico tradizionale ayurvedico che in India viene nella stragrande maggioranza da famiglie già di vaidia di medici ayurvedici da generazioni quindi la mamma e il papà piuttosto che solo la mamma o solo il papà o solo la nonna sono già medici ayurvedici e portano questa conoscenza già in famiglia ai loro figli e nipoti che poi sceglieranno di fare quella professione frequentando le scuole fino all'università dove poi ci si laurea in ayurveda in questo corso di cinque anni universitario quindi quando si sente il polso si sentono questi sottili impulsi è un po' queste frequenze è un po' come quando Beethoven per sentire la musica essendo diventato sordo la sentiva attraverso una corda legata al pianoforte capite quindi è qualcosa di estremamente semplice tra virgolette però ripeto va studiata e praticata quindi quando nel polso andiamo a sentire queste irregolarità a livello di Vata Pitecafa potremo dare dei consigli più mirati dal punto di vista dei preparati medicinali ayurvedici che sono formati da miscele di più piante che si sostengono le une con le altre riducendo gli effetti collaterali di una pianta rispetto ad un'altra pianta vi faccio un esempio una pianta assolutamente straordinaria che cresce tantissimo e benissimo in Italia soprattutto in Calabria è la liquerizia e la liquerizia manda in panico un sacco di persone perché già ma io ho la pressione tendenzialmente alta la liquerizia so che fa alzare la pressione non è vero o meglio non è vero in maniera assoluta perché la liquerizia in Ayurveda la radice di liquerizia è usata tantissimo si chiama in sanscrito yasti madu yasti vuol dire bastoncino madu dolce sapete tutti il sapore della liquerizia masticata dal bastoncino la liquerizia pacifica no equilibria vata e pitta ma non equilibria caffa allora caffa è acqua e terra abbiamo detto se io prendo solo liquerizia prendo un decotto piuttosto che un preparato a base di liquerizia siccome la liquerizia equilibria solo vata e pitta non equilibria la caffa e nel mio organismo siccome caffa è fatto di acqua e terra aumenterà l'edema quindi il gonfiore la costrizione a livello dei vasi sanguigni se io la liquerizia come nei preparati ayurvedici la combino con altre piante che pacificano equilibriano anche caffa questo fenomeno non avverrà quindi questa è un'osservazione che mi piace trasmettervi per farvi capire l'importanza di conoscere bene l'ayurveda e i preparati ayurvedici e l'altra cosa importantissima dei preparati ayurvedici è la presenza di spezie ma di nuovo non è come mangiare una pasta aglio olio peperoncino con un sacco di peperoncino ma è è la combinazione di nuovo la purificazione e la quantità delle spezie presenti nei preparati ayurvedici che addirittura faranno sfiammare le emorroidi capite o faranno modificare ridurre l'acidità gastrica quindi questo per spiegarvi i preparati e poi e tocchiamo l'argomento di stasera l'alimentazione secondo l'ayurveda ci sono tre cardini tre principi importantissimi terapeutici da tenere presente per riequilibrare i dosha per riequilibrare questi tre principi metabolici e questi tre pilastri sono ahara il cibo nidra il sonno e bramacharya l'uso equilibrato degli organi di senso ahara il cibo lo diciamo in tutte le medicine assolutamente ma per l'ayurveda questo rapporto è ancora più sofisticato il cibo deve avere qualità opposte al dosha in squilibrio perché la regola fondamentale dell'ayurveda in sanscrito samanya viscesha siddhanta tutto ciò che è simile aumenta il simile tutto ciò è che il contrario riduce il contrario una regola semplicissima o freddo mi metto una bella sciarpa di lana o caldo mi tolgo la giacca perché è aumentata la temperatura nella stanza no? quindi se io ho tanto vata vata è fatto di spazio aria è secco ruvido instabile freddo prediligerò e considerò alla persona con un eccesso di vata dei cibi caldi cotti leggermente untuosi morbidi e che abbiano la prevalenza di sapori come dolce acido e salato prevalenza di sapori non vuol dire che manchino piccante amaro e astringente ma ci saranno meno perché il piccante amaro astringente aumentano molto vata il dolce e l'acido salato invece lo riducono infatti chi ha un eccesso di vata cioè la maggior parte di tutti noi perché siamo sempre troppo iperattivi sempre troppo presi nelle vicende della quotidianità la maggior ragione è oggigiorno qual è il cibo che ci attira di più il dolce e anche un po' il salato quindi proprio perché vata in squilibrio per questo eccesso di attività mentale soprattutto preoccupazione eccetera la prima cosa non vedo l'ora di tornare a casa a mangiarmi anche un piatto di pasta perché la pasta è dolce il riso è dolce la frutta è dolce poi c'è proprio anche quella variazione sul tema è un po' esasperata della fetta di tiramisù piuttosto che anche qui con un po' di saggezza se non esageriamo è tollerato nell'ambito dell'alimentazione anche un dolce sano ecco pitta è fuoco e acqua quindi pitta ha bisogno di qualcosa di rinfrescante quando c'è un eccesso di pitta avremo bisogno di cibi dove prevale il dolce quindi sia avata che a pitta va bene il dolce equilibria il dolce amaro e astringente questi sono i tre sapori che vanno bene a pitta amaro le verdure a foglia verde l'astringente i legumi per esempio hanno un sapore astringente e il dolce ripeto tutti i cereali magari per esempio tra i cereali più adatti a pitta oltre il riso che va bene per tutti e tre c'è l'orzo che è un pochino più rinfrescante no e quindi per pitta andranno meglio verdure un pochino a foglia amare spezie come il coriandolo la curcuma no che è un po' amara la più amara anche un pochino il cardamomo anche i semi di finocchio mentre per vata cumino zenzero quello fresco è piccante in bocca ma dolce nello stomaco quindi cumino zenzero curcuma il fieno greco che è una spezia molto importante e la safetida che è una spezia molto pacificante vata la safetida si trova nei negozietti degli indiani e dei pakistani che ormai sono diffusi in tutte le nostre città e si chiama così perché ha un dolore un odore un pochettino forte di un misto tra aglio e cipolla l'aglio va benissimo oltre che una spezia è una medicina quindi il nostro aglio assolutamente che utilizziamo nella cucina va molto bene va vi ricordo sempre tagliato a metà e tolta quella a nivella quella germoglio che è tossico quindi dobbiamo sempre ricordarci di purificarlo caffa acqua acqua e terra quindi è più pesante è addirittura l'opposto rispetto a vata a parte il freddo che caratterizza sia vata che caffa però il freddo di vata è un freddo secco ventoso penetrante il freddo di caffa è un freddo umido quindi è più come avere una coperta bagnata addosso fredda caffa ha bisogno quindi di qualità più stimolanti perché è molto statico e quindi i sapori sono piccante amaro stringente però ripeto anche gli altri tre sapori devono sempre far parte di una dieta equilibrata ma in minore quantità quindi un po' più speziato come cibo il cibo per equilibrare caffa e per arrivare al punto della stagione la stagione primaverile è una stagione dove predomina caffa perché se fosse la primavera come abbiamo sempre vissuto dovrebbe essere una primavera più umida piovosa qui come si suol dire non ci sono più le stagioni di una volta quindi al momento non l'abbiamo ancora avvertito questo però in alcune zone d'Italia sta piovendo quindi sta manifestandosi un po' questa caratteristica di umidità in più in inverno che è una stagione vata cosa succede vata è leggerezza quindi in inverno la aumentiamo molto il vata per il freddo che ci circonda e il nostro organismo per bilanciare quel freddo leggerezza eccetera costruisce all'interno trattiene all'interno delle caratteristiche di flemma di umidità di pesantezza che diventano in eccesso alla fine della stagione invernale e in primavera che è già una stagione cafa quindi con un eccesso un eccesso di quindi queste qualità di umidità e pesantezza quando arriviamo in primavera arriviamo già con un eccesso di cafa e in una stagione cafa quindi dobbiamo mettere in atto delle misure di depurazione sentiamo tutti di aver bisogno di un po' di depurazione per esempio bere con assoluta maggiore regolarità l'acqua calda bollita per 15 minuti conservata calda in un termos magari con qualche semino di finocchio o con una fettina di zenzero fresco solseggiare mezzo bicchiere di quest'acqua ogni ora questo ci aiuta a depurare usare cibi un po' amari come adesso la stagione poi ci offre tutte le verdure a foglia verde anche gli asparagi che hanno questo come dire anche effetto un po' depurativo sulle vie urinarie e alleggerire in ogni caso la dieta vedo delle domande dieta vegetariana perfetto figlio vegano vivete e siete nati in Calabria io sono vegetariana non vegana quindi io utilizzo il ghee perché il ghee è il burro chiarificato è molto importante perché contiene delle sostanze lipidiche molto utili per equilibrare le membrane delle cellule cerebrali che sono su base fosfolipidica quindi il ghee contiene vitamina A vitamina E vitamina D vitamina K io uso anche le uova non uova e formaggi alla sera cena e per chi non è vegetariano ridurre il consumo della carne usare più carne bianca e pesce e non alla sera cena le proteine animali alla sera non vanno bene così come non vanno bene le verdure crude la ayurveda è più per le verdure cotte rispetto a quelle crude perché acquisiscono una capacità di essere digerita molto più facile rispetto a quelle crude non cotte bollite perché tutta la qualità e le sostanze vanno a fine nell'acqua di bollitura e meglio ancora che cotte a vapore cotte in padella con un piccolo cucchiaino di ghee sciolto e quindi poi stufate con un pochettino di acqua tiepida un pizzico di sale e verso fine cottura l'aggiunta delle spezie che vi ho citato prima consumare poca carne e prediligere proteine vegetali non comporta conseguenze io ripeto sono vegetariana ogni tanto faccio un ciclo nell'anno di vitamina B12 proprio per essere sicura dobbiamo essere diciamo molto attenti a consumare le giuste quantità di legumi per non entrare in uno stato di carenza di vitamina B12 quello assolutamente sì quindi l'alimentazione primaverile andrà a essere un pochino alleggerita perché cicoria broccoli rapa cavolfiore bieta che dice Mariella assolutamente bene ricordatevi che tutta la famiglia del cavolo cavolfiore broccolo aumenta vata perché crea più arli a livello addominale allora in quel caso queste verdure vanno sempre addizionate con un po' di cumino zenzero curcuma fieno greco assafetida si può fare come vi dicevo prima partire da un po' di ghi con queste spezie che si fanno dorare leggermente e poi queste verdure ripeto anziché bollire le mettiamo già crude dentro questo soffritto tra virgoletto di ghi e spezie e poi aggiungiamo tanto così di acqua bella calda se necessario un pizzichino di sale mettiamo il coperchio e portiamo a stufatura in questo modo qualsiasi verdura con le spezie è conciliabile con le nostre caratteristiche il pesce lo mangio con piacere preferendo la cottura al forno non amo le fritture benissimo però ricordatevi sempre di utilizzare il ghi nelle cotture anche al forno perché il punto di fumo del ghi è 230 gradi quindi sopporta benissimo le alte temperature un consiglio anche appunto in primavera quindi oltre che alleggerire l'alimentazione un po' in generale e rispettare la regola della cena leggera magari un passato di verdura un minestrone una mela cotta se proprio uno dice ma sento che mi manca qualcosa e quando cuociamo la mela aggiungiamo un pizzico di cannella un chiodo di garofano perché queste spezie conservano quella natura originale originaria della mela la frutta non andrebbe cotta la frutta è già cotta sull'albero dal sole però in certi casi come appunto la mela cotta o le pesche al forno aggiungendo un pochino di spezie sono diciamo ancora più mantenute le caratteristiche e le qualità originarie faccio uso di integratori multivitaminici e vitamina D perfetto però ricordatevi che quando abbiamo un intestino non infiammato un intestino che assorbe bene queste sostanze noi le otteniamo dal cibo equilibrato però nulla vieta che prendiamo dei cicli come vi ho detto anch'io faccio di vitamina B12 ecco giustamente Anna mi dice di ricordarvi cos'è il ghi perché magari qualcuno lo sa qualcuno no è quello che chiamiamo nella cucina nostra italiana il burro chiarificato io in questo momento sono in Val d'Aosta e qui il ghi lo chiamano il burro colato il burro fuso e si fa per tradizione negli alpeggi da generazioni 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 in Friuli dove ero una decina di giorni fa lo chiamano ont l'unto e viene ottenuto cuocendo a fiamma bassa abbastanza lungo il burro quindi il burro si scioglie si forma questa schiuma che è la separazione della casina del lattosio e dell'umidità che viene tolta con una spatola fino a che il burro diventa completamente trasparente e chiarificato non prendete quello del supermercato non per peraltro perché come qualcuno saprà è in frigorifero in una lattina di metallo in frigorifero non va il burro chiarificato perché quando è chiarificato bene il burro non ha più necessità di essere messo in frigorifero quando invece lo prendete o in farmacia o nei negozi specializzati in parafarmacia erboristeria eccetera avete la garanzia che è un burro ben chiarificato e non lo tenete in frigorifero ma io la marca migliore vi do la mia indicazione perché conosco bene il guide della MAP Italia che trovate in farmacia e viene da mucche tedesche che vengono rispettate non vengono sfruttate ed è completamente biologico ecco allora io direi che è passata la nostra ora di trasmissione sono contenta di di aver avuto con voi questo questo dialogo che spero vi sia stato utile sto guardando se c'è qualche domanda particolare sì il guide è veramente buono e è molto sano aumenta il colesterolo buono e riduce quello cattivo quindi lo possiamo usare tranquillamente per la cottura dei nostri cibi si può usare anche a crudo spalmato sulla fetta biscottata al mattino insieme alla marmellata quando facciamo colazione ecco prima si parlava di artrosi avevo visto la domanda allora l'artrosi è secondo la medicina ayurvedica un accumulo di ama queste sostanze appiccicose fredde che vanno a disturbare le articolazioni quindi alla base c'è una cattiva digestione a volte anche una cattiva alimentazione però rimettendo a posto quello che vi ho detto pranzo il pasto principale cena assolutamente leggera acqua calda bollita per depurare il ghi che anche lui in parte depura il nostro organismo e poi lì ci sono dei preparati specifici per l'artrosi che intervengono proprio anche sulla capacità digestiva di queste tossine l'artrosi la costruiamo negli anni può essere un'artrosi e un'artrite quindi infiammatoria e legata allo squilibrio di vata può essere un'artrite più vata quindi con una secchezza a livello delle articolazioni può essere un'artrite con infiammazione quindi presenza di pitta in ogni caso queste diciamo distinzioni si vedono bene sentendo il polso bene allora io saluto tutti ringrazio tutti ringrazio Enrico Ballantini e Anna Tamburini Torre dell'opportunità che mi danno per queste trasmissioni e alla prossima va bene buonasera a tutti e grazie ancora a tutti e grazie a tutti e grazie a tutti